Dopo il trionfo di domenica scorsa con Ragusa, un 81-58 che ha lanciato il basket jarre al secondo posto in scia dello Sporting Club Adrano, arriva la sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in vetta al campionato. Domenica prossima alle 18 il Palaiungo ospiterà infatti lo scontro diretto tra i Gello Blu, secondi a 16 punti e reduci da 7 vittorie consecutive, contro un Adrano che dopo 10 turni di Serie D ha conosciuto solo successi. Un incontro difficile, come sottolineato dall'allenatore del jarre Ignazio D'Angelo, che ha tenuto in settimana a rimarcare la grande prova dei suoi ragazzi contro la Pegaso Ragusa. Un più 23 finale che ha allontanato l'amarezza della gara d'andata, terminata con una sconfitta di un solo punto. Adrano è squadra ostiche e forte fisicamente, sarà complicato ribaltare il passivo di 18 punti maturato nella partita d'andata, ha precisato D'Angelo. Ciò che è sicuro, prosegue l'allenatore Gello Blu, è che venderemo cara la pelle, provando a difendere l'imbattibilità stagionale del Palaiungo. D'Angelo è cauto riguardo le prospettive di lotta per il primo posto, sottolineando come Adrano dovrebbe poi inciampare in qualche altra occasione. Evenienza comunque non impossibile, dato l'equilibrio di questo girone sud di Serie D. Questo è un campionato in cui non esistono gare dall'esito scontato, chiude D'Angelo. Squadre come Cireale, ad esempio, si sono rafforzate nel mercato di riparazione e renderanno la vita difficile a qualsiasi avversario.